sport piceno game presenta il calcio la vera magia passione che brucia tra campo e tifosi con passione calcio siamo tutti gloriosi benvenuti alla nuova puntata di passione calcio apriamo la puntata parlando dell'ascoli calcio ascoltando l'intervento del giornalista valore l'ascoli non sa più vincere e questo è un po il segnale negativo di questo periodo dove invece c'è un pizzico di ottimismo sul piano del gioco della reazione della grinta della compattezza della squadra però mancano i risultati questo è il lato negativo di questo ultimo periodo con i tre pareggi che hanno comunque dato un minimo segnale di reazione da parte di una squadra che certamente è in difficoltà a cui però manca anche un po di buona sorte perché la partita con il Ponte d'Era era una partita che si poteva tranquillamente vincere c'è stato il solito errore difensivo che è costato i tre punti è un errore che purtroppo si ripete troppo spesso e che sta condizionando tanto il cammino dei bianconeri cosa dire la situazione è certamente delicata soprattutto perché ripeto con la carenza di vittorie la situazione di classifica è molto molto deficitaria dall'altro lato ci sono almeno tre buoni indizi uno è quello con il bomber corazza che è capocannoniere del campionato ed è normale che quando hai un giocatore che ti fa così tanti gol otto reti finora un minimo di speranza devi ancora averla poi c'è il fatto che comunque stai provando ad avere un'identità mister di carlo sta facendo quello che può con il materiale umano che ha lo abbiamo detto diverse volte la rosa non è certamente di primissima qualità ci sono comunque dei calciatori che possono e devono fare la differenza la terza nota positiva è certamente quella legata ai rientri alla possibilità di avere qualche rinforzo in più rispetto a quelli che lascono attualmente il primo è quello di tab char che certamente un difensore fisico possente quando è entrato anche con il ponte d'era ha dato una certa solidità al reparto arretrato prendendo tutti i palloni alti cercando comunque di uscire palla al piede credo che ben presto lo vedremo lo vedremo titolare nella in terza linea e poi c'è tremolata su cui tanto si sta aspettando il proprio il contributo certamente un giocatore di qualità che di carlo conosce che non ha in questo momento dato il suo apporto come come si sperava ma che è comunque giocatore di talento e che appena avrà un minimo di condizione atletica più accettabile io penso che certamente potrà potrà fare la differenza la terza nota positiva per quanto riguarda i rientri o quantomeno i giocatori che abbiamo visto all'opera in questo periodo è del dell'esterno silipo che ha avuto poco spazio anche per a causa di alcuni problemi fisici ma che adesso sta diventando comunque un'arma in più con i suoi dribbling con la sua corsa con la sua vivacità col fatto che spesso e porta l'asco in superiorità numerica in fase offensiva un calciatore che certamente può essere molto molto utile nel cucire anche la manovra tra centrocampo e attacco ma anche come finalizzatore il ponteter ha colpito un palo che avrebbe meritato maggior sorte però ripeto anche qui l'ha abbendata purtroppo in questo momento pare che si sia dimenticata un po del dell'ascoli ed è vero anche però che la fortuna devi aiutarla tu no con con le prestazioni con la voglia con il carattere ripeto non possiamo rassegnarci a novembre a essere già retrocessi a essere già nella fase in cui ci fasciamo la testa dobbiamo prendere questi piccoli segnali seppur vero che comunque le ultime dieci gare aver preso soltanto tre punti non è che ti lascia tantissimo tantissimo ottimismo in attesa di questo derby a pesaro venerdì sera a pesaro ci si andava nel precampionato a giocare le partite in preparazione della stagione adesso andiamo a giocarci con quella che attualmente la regina delle marche perché bisogna essere anche onesti nel dire che la vista sta facendo un gran campionato ha perso domenica una partita abbastanza complicata con la pianese però mister stellone che tra l'altro è un ex sta facendo un gran lavoro e quindi bisognerà fare anche molta molta attenzione e quindi si aspetta ancora una volta questa vittoria sperando che prima o poi possa arrivare e chissà che non arrivi proprio con gli amici gemellati di pesaro che ci hanno scippato la capitale della cultura e magari riusciamo a strapparli questi tre punti e scipparli noi un risultato importante che potrebbe essere quel click che ci fa fare il passetto decisivo in avanti terzo pareggio consecutivo per il picchio questa volta ha impattato col punte d'era una partita che mi dispiace dirlo ma l'ascoli ha regalato il primo tempo perché nel primo tempo parte il palo sfortunato di silipo su punizione non la squadra non ha offerto niente di che all'ennesima distrazione difensiva la prima ha beccato il gol un'ingenuità da parte dell'intero reparto arretrato compreso il portiere livieri che secondo me non è esente da colpe in quel caso il portiere deve uscire ma anche i difensori ci hanno messo del loro secondo tempo che la squadra mi è piaciuta è entrato con un altro pillo in campo ha raggiunto il meritato pareggio con corazza sempre più capo cannoniere del girone b della serie c con otto gol e ha sfiorato in diverse occasioni il vantaggio che vedendo il secondo tempo sarebbe stato anche meritato con la chic che è entrato subito benissimo in partita ha sfiorato il gol in un paio di occasioni una squadra che io riparto dall'ultimo diciamo dall'ultima mezz'ora della partita dove l'ascoli ha messo in impegno grinta e qualità in mezzo al campo un ponte d'era che poi non si è più reso pericoloso diciamo quindi passo dopo passo anche in questo caso si sono intravisti dei piccoli miglioramenti peccato che si prende gol sempre da calcio piazzato e la squadra deve diciamo il mister di carlo deve comunque lavorare ancora di più su questo aspetto secondo me certo la vittoria col ponte d'era avrebbe dato uno slancio importante in classifica visto che c'è il pienone di squadre se non sbaglio sono cinque squadre o quattro a undici punti per cui si sarebbe arrivati alla imminente trasferta di pesaro il derby venerdì sera alle 20 e 45 al benelli di pesaro dove ci saranno quasi 600 tifosi dell'ascoli a sostenere appunto i bianconeri una vis avversario difficile però speriamo che i progressi della nostra squadra continuino e non ci siano più delle clamorose disattenzioni difensive ho notato che Tavciar è entrato in campo bene potrebbe essere lui rinforzo per la difesa in attesa del rientro credo imminente di curato perché sia Cagliolo sia 40 purtroppo in occasione del gol si sono fatti sorprendere comunque ecco diciamo una partita diciamo dai due volti contro il ponte d'era primo tempo brutto per l'ascoli secondo tempo molto ma molto positivo dispiace perché sembra che se non segna corazza l'ascoli non riesce a segnare purtroppo è una triste realtà ma auguriamoci che col passare delle partite anche altri giocatori bianconeri si sblocchino e soprattutto di cercare di chiudere un girone d'andata con un bottino di punti diciamo abbastanza sicuro per una salvezza poi ci sarà tutto il girone di ritorno passo dopo passo auguriamoci che questa squadra possa trovare questa vittoria perché al momento il tabù da sfatare è quello della vittoria non vinciamo da settembre purtroppo è una squadra che io sono convinto che se riuscisse a trovare di nuovo la vittoria poi farebbe un filotto di risultati utili consecutivi per cui cerchiamo di essere fiduciosi io personalmente lo sono auguriamoci davvero di poter sfatare questo tabù vittoria per l'ascoli passione dalcio siamo puntati ascoltando l'intervento del giornalista e direttore di sport viceno Gabriele Brandotti passione dalcio auspicavamo un successo della formazione bianconera contro il Ponte d'Era ma così ahimè non è stato avrebbe rappresentato una vittoria una sorta di panacea contro questo malessere generale che investe sì la squadra la società ma soprattutto la tifoseria che protesta che è uno stato morale disastrato e che vorrebbe certamente altri risultati quindi queste critiche che ci sono che devono rimanere sempre nell'ambito verbale questo è certo sono generate a questi risultati nelle ultime dieci partite l'ascoli ha conquistato solo quattro punti un record negativo che rappresenta una miseria storica proprio per la formazione bianconera nella partita contro il Ponte d'Era passata in vantaggio con Martinelli l'ascoli successivamente ha avuto una reazione un piccolo segnale di ripresa ampliato poi nel secondo tempo e questo segnale di ripresa è stato concretizzato dal pareggio al 62esimo di corazza e così questo giocatore è sempre sul pezzo rappresenta una delle poche note positive devo dire anche che la dea bendata non è stata favorevole all'ascoli che ha creato altre opportunità per ribaltare il risultato ma così non è stato rimane dunque l'ascoli in una posizione di classifica veramente difficile con solo 11 punti in coabitazione con altre formazioni ma di queste formazioni col sestri levante spal milan futuro e ascoli ricordiamo che la spal è partita con tre punti di penalizzazione il milan futuro deve recuperare una partita c'è sotto solo il legnago e questo rappresenta qualcosa di veramente brutto anche da vedere c'è la prossima partita e la prossima partita è un derby un derby contro la vispesa speriamo che da qui si possa ripartire ma certo la squadra deve mettere in campo altro i giocatori a disposizione del tecnico di carlo non sono da da buttare tutt'altro sono giocatori che hanno delle belle esperienze è anche un bel pedigree sono giocatori che hanno giocato in serie maggiori e che hanno anche un bel bagaglio tecnico tattico quindi speriamo agonistico speriamo che tutto ciò possa creare una sinergia che deve partire dalla società trasferirsi alla squadra e conseguentemente anche alla tifoseria che lì in attesa di sostenere i bianconeri ma certamente non può farlo visto la scarsità dei risultati quest'incubo che sta vivendo la tifoseria speriamo venga dissolto già nella partita nel nord delle marche contro la vispesaro una gara importantissima a questo punto della stagione perché o si svolta ora o si rischia di rimanere bloccati nel gorgo di una classifica con delle conseguenze che potrebbero essere potrebbero sedimentare in qualcosa di estremamente ancora più negativo certo questo noi non lo spieghiamo e speriamo che ci sia da qui in poi una ripresa ma devono metterci dentro il cuore il sacrificio lo spirito competitivo e soprattutto il temperamento speriamo che arrivi un risultato positivo già dalla prossima passione calcio proseguiamo la puntata parlando del campionato eccellenza femminile marche e della quinta giornata della san benedettese calcio ad opera del servizio di chiara paura passione calcio la san benedettese femminile fa registrare un'altra importante vittoria questa volta sono dieci le reti realizzate contro il fano che cade così a petrella nella quinta giornata del campionato di eccellenza femminile marche le rosso blu salgono così a quota 9 in attesa del ricorso effettuato contro la maceratese per la vittoria assegnata a tavolino alle bianco rosse il prossimo impegno sarà sabato 16 novembre ad offagna nella stessa giornata di questo campionato che vede le rosso blu affrontarlo da protagoniste come negli anni precedenti passione calcio termine qui vi appuntamento la prossima puntata se vi è piaciuto mettete un like e seguiteci sui nostri social sparpice no game ha presentato il calcio la vera magia passione che brucia tra campo e tifosi compassione calcio siamo tutti gloriosi sparpice no game ha presentato il calcio la vera magia passione calcio